Ogni anno nella festa nazionale di Yulin in Cina più di 10.000 cani vengono brutalmente torturati e massacrati e a causa delle povere condizioni igieniche più di 3.000 persone muoiono di rabbia. Animalisti italiani e anche io vi chiediamo di sostenere questa iniziativa e chiediamo soprattutto all'ambasciata cinese in Italia di aiutarci a fermare questa barbarie perché la civiltà possa regnare. Mi raccomando, qui ci sono tutte le informazioni per sostenere questa campagna.